Bonifiche grandi arie inquinate sbloccati 150 milioni per grandi interventi in tutta la Sicilia. Sbloccati 150 milioni di euro destinati alla bonifica di grandi arie inquinate in Sicilia, il governo musulmese potrà utilizzare queste somme per ultimare interventi strategici bloccati da anni e finanziare nuovi progetti. Un risultato ottenuto dall'esecutivo di Palazzo d'Orlean dopo mesi di duro lavoro e lungo confronto con Roma. Si tratta di finanziamenti stanziati a partire dal 1999 durante la lunga gestione commissariale terminata nel 2016. A quel punto sarebbero dovuti transitare nel bilancio regionale previa rendicontazione di tutti i progetti, operazione però mai portata a termine in passato. Da qui il lungo lavoro dell'assessorato all'energia e in particolare del Dipartimento Acqua e Rifiuti per la definizione delle procedure per la ricostruzione certosina di vecchi procedimenti che hanno condotto l'accertamento di notevoli somme non spese negli ultimi vent'anni. Numerose note e solleciti inviati ai ministeri competenti e al Dipartimento della Protezione Civile che ha proposto l'emendamento che ha sbloccato i fondi fermi da decenni. Adesso tocca a noi, sottolinea il Presidente della Regione, nella 11 mesi colmare il vuoto del passato. È una scommessa per restituire alla nostra isola la rassicurazione di un ambiente assai devastato dalla irresponsabilità di pochi e dalle disattenzioni di tanti. Per consentire il trasferimento delle somme nel bilancio regionale è stata necessaria anche una norma insedita nel cosiddetto Mille Pro che è approvato ieri anche in Senato. La norma consentirà alla Regione di trasferire le risorse entro il prossimo mese di giugno. Sin dal nostro insediamento, spiega l'assessore regionale Alberto Pierobon, abbiamo lavorato per consentire l'utilizzo di queste risorse fondamentali, sia per concludere gli interventi in essere, sia per programmare nuovi interventi in aree inquinate sulle quali i cittadini richiedono un intervento immediato. Delle risorse complessive stanziate negli anni sono state spesi circa 200 milioni di euro, mentre i restanti 150 milioni erano rimasti nella contabilità speciale e solo adesso sono stati sbloccati. Nel dettaglio 93 milioni di euro sono del Ministero dell'Ambiente, altri 18 provenivano da fondi regionali, mentre 7 milioni e mezzo erano da richiedere al Ministero dell'Economia per il completamento di interventi ambientali in corso. Tra le risorse sbloccate ci sono anche 27 milioni di euro di economie varie che adesso potranno essere impiegati per finanziare nuovi interventi di bonifica.